E' un Giovanni Tedeschi, raggiante e carico, quello che ieri sera ha dato il via alla sua campagna elettorale a Fornelli. La lista Crescere Liberi si è presentata all'elettorato locale all'interno dell'auditorium cittadino. Un vero e proprio bagno di folla per l'attuale sindaco in carica e per tutti i suoi candidati. Una squadra giovane, fatta di esperienza e di amministratori che si rispettano e si ripresentano al pubblico. Un mix vincente e di carattere. A testimoniare l'amore che i cittadini provano per queste persone, la grande presenza numetica. Tedeschi ha ribadito i punti fondamentali del suo operato, ma ha espresso anche idee nuove e innovative da lanciare in caso di vittoria alle elezioni. Sarebbe la terza consecutiva per i suoi concittadini. Nelle parole del sindaco, tutta la voglia di continuare a crescere liberi. La mia terza ricandidatura, voluta dalle persone che mi stanno più vicino, voluta da tanta gente, voluta da coloro che hanno creduto in questo percorso di cambiamento in questi anni, da questa forza che ha travolto Fornelli, che lo ha cambiato in tutti i sensi, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista culturale. E per poter continuare quest'ultimo mio mandato per completare questo ciclo. Quindi questo è l'obiettivo. Sono tanti gli obiettivi raggiunti, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il polo scolastico, la riqualificazione degli edifici esistenti, la realizzazione dell'auditorium comunale, la riqualificazione del centro storico, la realizzazione della piazza della lettura, il rifacimento di tutte le piazze del paese, l'investimento nella cultura, nella promozione del borgo, l'entrata nei borghi più belli d'Italia, la promozione turistica per quanto riguarda la viabilità comunale e tante altre opere, l'impiantistica sportiva, non dimentichiamo il campo insintetico, l'ultimo finanziamento arrivato per quanto riguarda l'ammodernamento del campo da tennis. Quindi un lavoro veramente proficuo e intenso per questo comune. In corso, proposte per quanto riguarda il finanziamento di varie opere, tra cui l'acquisto del Palazzo Laurelli per quanto riguarda la promozione turistica, quindi la realizzazione di un museo a Fornelli, altri progetti per quanto riguarda la realizzazione di un parco giochi, di una nuova area per l'accoglienza dei turisti, un progetto per quanto riguarda l'ammodernamento delle strutture sportive, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, per quanto riguarda la rete idrica e fognante, quindi tanti progetti che sono già stati candidati per il finanziamento.